Conte e Gualtieri Traditori o eroi? Risposta secca, nessuna delle due. In questo momento è in corso quella che potremmo definire come la consueta rappresentazione teatrale. Andiamo a cercare di capire perché arrivo a questo genere di risposta. Come sempre ci aiuta il nostro amico browser, andremo a vedere una serie di pagine prese da siti istituzionali, sostanzialmente Consiglio Europeo, Governo e in particolare Ministero dell'Economia e delle Finanze. Partiamo dal report del Consiglio Europeo, questo è stato pubblicato ieri intorno alle 11 di sera, dopo che finalmente si sono messi d'accordo tutti gli attori protagonisti dei 27. Qui abbiamo anche tutte quelle decisioni che sono state prese in precedenza, quindi abbiamo ben 22 punti, noi scorriamo, maggiore flessibilità nelle regole europee, l'utilizzo del budget europeo, la politica monetaria. Dopodiché andiamo a quello che più ci interessa, ovvero il punto 14 in avanti. Qui si comincia a parlare di quelle che sono state le ultime decisioni, ovvero con l'attivazione dei supporti di emergenza, l'intervento della Banca europea per gli investimenti al punto 15, con 200 miliardi per le aziende, chiaramente con tutta una serie di iniziative da prendere, le condizioni da mettere in campo. Poi qui abbiamo il punto 16, che è forse quello più soggetto a polemica in queste ore, ovvero la chiamata in causa dell'ESM, meccanismo europeo di salvaguardia, sul quale ci sarebbero da dire un po' di cose e adesso ci arriviamo. Va detto intanto che l'ESM entrerebbe in gioco per garantire quelle che sono le spese sanitarie in corso di emergenza da Covid-19, non appena l'emergenza, come scrivono, afterwards, da qui in avanti, non appena l'emergenza sarà finita, rientreranno immediatamente in gioco tutte quelle condizionalità che sono tipiche dell'ESM. Chi vuole parlare di queste cose invito, e poi ci andremo anche, ad andare sul sito dell'ESM, fare il favore di leggere il trattato di formazione di questo meccanismo, che già vi aprirà gli occhi sul fatto che questo sia un pericolo per chiunque decida di accedere alle sue linee di credito, chiedere alla popolazione greca per informazioni, dopodiché però vedremo anche altre cose. Poi entra in gioco anche il SURE, e poi c'è il Recovery Fund, qui siamo già sul post, quindi ancora non ci sono decisioni in merito ai passaggi successivi, next step ovviamente si dovranno rivedere e dovranno chiacchierare ancora un po'. Andiamo a vedere anche quelli che sono il discorso fatto da Mario Centeno, Presidente del Consiglio Europeo, secondo lui sono arrivate buone notizie, io nel mio piccolo e dal basso della mia ignoranza mi permetto di dire che non sono un granché di notizie, praticamente se volete immaginare un po' la scena è come se avessero dato un calcio alla pallina di carta stagnola, l'hanno tirata un po' più avanti, poi faranno qualche passettino e andranno a dare un altro calcio, magari tra uno o due settimane, staremo a vedere. Come ha commentato il Governo italiano, qui siamo sul sito del Ministero delle Economie e delle Finanze, il nostro meraviglioso Ministro Gualtieri, testualmente dice sul tavolo anche l'Eurobond, intanto qui implicitamente, dal momento che di Eurobond non se ne è proprio vista neanche l'ombra, sul tavolo evidentemente c'erano, ma sono rimasti ben coperti. Dall'Eurogruppo un pacchetto ambizioso di proposte, giustamente usa la parola proposte, perché fin qui va sottolineato, e su questo ha ragione anche il Presidente del Consiglio Conte a rimarcarlo, ufficialmente l'Italia non ha firmato nulla, non si è impegnata su nulla, sono solo proposte. Sul tavolo c'è questo, ovviamente prima o poi dovremo chiedere qualcosa, e se le proposte sono queste qualche problemino lo avremo. Dicevo delle SM, se voi andate in questo momento sul sito delle SM, qui trovate tutta la documentazione, piccola parentesi, e era in corso ed è ancora in corso la riforma delle SM, è stata sulla bocca di tutti qualche mese fa, ormai è passato un po' di tempo, perché con la crisi sanitaria tutto è passato in secondo piano. In apparenza questa riforma non è ancora stata portata a termine, sarebbe qualche sfumatura che andrebbe a cambiare per quello che ho letto io attraverso la documentazione disponibile, sarebbe una riforma peggiorativa, ma questo forse sarà argomento di discussione di altri video. Quello che ci interessa sapere in questo momento è che il buon Conte e il buon Gualtieri ci avevano detto che assolutamente di SM non ne volevano nemmeno sentir parlare, e noi vediamo che effettivamente, questa è la news del 26 marzo, è dal 16 marzo che gli Sherpa, anche i nostri, stanno preparando in remoto, lavorando in remoto, la documentazione che riguarda le SM. Infatti, come voleva si dimostrare, abbiamo visto che è stato e come è tirato in ballo, però ripeto, senza che sia stato firmato alcun che. Di questo va dato atto, almeno per ora. Andiamo a vedere un'altra cosina, perché sai, vorrei essere un attimino malizioso. Stavamo dicendo di Gualtieri, stavamo dicendo delle SM. Vorrei ricordare che il ministro Gualtieri è in carica dal 5 settembre, ora, tra le tante cose, chi è stato il primo personaggio che il 17 settembre è andato a fare visita a Gualtieri? Manca a farla apposta. Il direttore esecutivo delle SM, Klaus Reigling. Saranno i casi della vita, sarà una correlazione spuria, non c'entrerà nulla, però, intanto, insomma, un minimo collegamento così per fare i maliziosi l'abbiamo trovato. Lasciamo stare, sono io che sono in malafede. Tornando alla questione Ministero dell'Economia e delle Finanze, che poi è quello che ha in mano i cordoni della Borsa, se andate in un page trovate il Cura Italia, perché qui dobbiamo fare il punto della situazione. Il problema non è cosa è stato deciso al Consiglio europeo, cioè nulla. Il problema è quanti soldi ha messo fino ad ora l'Italia. Ormai siamo fermi da ben più di un mese e ci hanno dato notizia del fatto che resteremo fermi fino al 3 maggio, a parte qualche cosina di marginale che si muove. Sull'home page del sito del MEF trovate il decreto Cura Italia, che è quello l'unico sostanzialmente nel quale si è parlato di soldi fino ad ora. Come vedete, potenziamento del sistema sanitario, sostegno all'occupazione dei lavoratori, aumento del credito alle famiglie, sospensione dei tributi, contributi. Questo è un punto sul quale diciamo che c'è una mezza verità, o se preferito una mezza menzogna, nel senso che chi ha letto il decreto come ho fatto io si sarà accorto del fatto che alcune scadenze a marzo, perché ormai è vecchio il decreto, erano state prorogate solo di quattro giorni e quindi c'è chi ha pagato. E se andate a chiedere alle associazioni di categoria, vi confermeranno che molti professionisti hanno già pagato. Quindi lasciamo perdere sulla sospensione, comunque una sospensione. Qui si arriva all'estate e interi reparti, settori che sono rimasti fermi in queste settimane, dovranno pagare le tasse. Comunque, i soldini del Cura Italia, attenzione, dovevano essere all'incirca 25 miliardi. Questi 25 miliardi al momento sono fermi, per un semplice motivo, siamo in fase di conversione del decreto al Senato, torniamo un attimino in studio, così si vede il faccione. Dicevo, è in fase di conversione al Senato, quindi cosa succede? Succede per esempio che i famosi 600 Euro, di cui si è parlato moltissimo nelle ultime settimane, per quella platea di attività economica, lavoratori che sono fermi da alcune settimane, in realtà non sono ancora stati erogati. Intanto ci ricordiamo il caos sul sito dell'Inps, che già ci ha fatto sorridere, gli attacchi hacker, le cavallette, tutte queste belle cose. In questo momento, essendo in fase di conversione, sostanzialmente basta cambiare una virgola e questo decreto dovrà poi andare alla Camera, poi dopo, eventualmente, in caso di ulteriori modifiche, seconda lettura, quindi si fanno le calende. Vi ricordo che il Ministro Gualtieri aveva promesso a marzo che i soldi sarebbero arrivati con l'inizio di aprile, i soldi non sono arrivati, sono tutti fermi perché probabilmente dovranno essere fatte delle integrazioni alle domande che sono già state presentate. Questo per amore di verità. Torniamo al sito del Ministero e scorriamo un attimino in home page perché arriva il bazooka dei Gualtieri. Allora, questa news fa riferimento ai 400 miliardi di euro di prestiti garantiti dallo Stato che sarebbero, da dove verrebbero fuori, dal decreto legge del 6 aprile. Andiamo a vedere questo decreto legge del 6 aprile perché se ne ha parlato molto. Io ho visto anche persone che sono direttamente interessate che hanno fatto due conti per capire se avrebbero potuto veramente accedere ai fondi e si sono resi conto, per quel poco che se ne sa, che sarebbe stata un'impresa. Ma al di là di questo, questa è la nota del Ministero. Vedete un bazooka di liquidità. 200 miliardi di prestiti garantiti dallo Stato fino al 90% per tutte le imprese, 200 miliardi di garanzie per l'export, eccetera, eccetera. Ora, poi se scorriamo, andiamo a vedere tutte le garanzie, abbiamo anche l'infografica meravigliosa. Qui potete vedere tutto quello che volete. Poi, come al solito, sotto sono riportati tutti i link per chi vuole fare un po' di ricerche. Ora avete visto anche sopra che c'era un link al decreto. È lo stesso. Decreto-legge 8 aprile 2020, numero 23. Proviamo ad aprire. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Ci sarà sicuramente un bel testo. Questo è quello che abbiamo oggi. Ora, siccome non vorrei sbagliare, andiamo a vedere un attimo sul sito del governo, perché sicuramente ci sarà qualcosa. Come vedete, questa è la pagina del sito del governo, post consiglio dei ministri numero 39. Noterete che qui non ci sono link perché alla normativa. Perché il testo non c'è. O se c'è, se lo stanno tenendo nei cassetti. Forse in attesa, immagino io, così, con un po' di malafede, via, con un po' di malizia, che stiano aspettando l'ok da Bruxelles. E noi scorriamo. E sulla base di quello che c'è scritto qui, ovviamente, chi di dovere ha cominciato a cercare a fare due conti e a capire se poteva recuperare qualche soldino ad attività ferma. Questo è quanto. In Gazzetta Ufficiale non esiste il testo. Quindi noi, ad oggi, abbiamo il Cura Italia, i cui fondi sono bloccati. abbiamo, se proprio vogliamo fare, un discorso più completo. Quale è il soldino che è arrivato ai comuni per gestire l'emergenza? Ma attenzione, non sono soldi freschi. Sono soldi che fanno parte di un fondo per eventuali emergenze che già erano nelle disponibilità della Presidenza del Consiglio. Quindi, soldi freschi, zero. Andiamo avanti. Per completare il quadro, questa è la pagina dove abbiamo la normativa attualmente in vigore per l'emergenza Covid-19. Come vedete, l'ultimo provvedimento è il DPCM del primo aprile. Da lì in avanti non c'è nulla a livello di governo. Questo per essere chiari, perché delle volte. Un'ultima cosa che andiamo a vedere. Adesso io vorrei fare un... Intanto vi faccio vedere queste due paginette. Allora, cosa è successo nel frattempo? Sempre il 6 aprile, si vede che è una data cara per il Ministero, emissione di BTP, medio-lungo termine. Allora, la nota del Ministero ci informa del fatto che si procede con l'emissione di questi titoli. E andiamo a vedere il comunicato stampa con tutti i dettagli. Allora, la cosa che interessa a me far notare, perché poi arriviamo al discorso in conclusione, è che, allora, intanto 3 anni, 7 anni, 15 anni, 30 anni, abbiamo un complessivo importo minimo che mi si aggira sui 7 miliardi e 750 milioni, il massimo dell'offerta arriverà in caso di exploit a 9 miliardi e mezzo. Attenzione, questi non sono titoli straordinari, questa è normale amministrazione, non c'è nulla di straordinario a copertura della crisi, eccetera, nulla di tutto questo. Queste sono normalissime emissioni di BTP. vediamo le cedole annuali, vedete che andiamo dallo 0,60 del triennale fino al 4,75 dei trentennali. Ora, un'altra cosa che vorrei far vedere scorrendo, qui abbiamo tutte le varie indicazioni per quest'asta, meccanismo, la montare e chi è ammesso, vedete, sono ammesso a partecipare le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie, nonché società, eccetera, eccetera, eccetera. ora, io vorrei fare un ultimo ragionamento sui possibili interventi, almeno per quanto mi riguarda, quelli che ho individuato io, diciamo, gli interventi che sono plausibili e a chiudere uno che secondo me invece sarebbe l'ideale e spiego perché. Allora, io ho individuato cinque tipologie di intervento dal momento che come abbiamo detto ad oggi in concreto il governo ha messo 0. Allora, qualche soldino prima o poi lo dovremo mettere, in qualche modo. Allora, prima tipologia di intervento, Banca Centrale Europea che mette i soldi direttamente. Piccolo problema, la Banca Centrale Europea ha già messo 750 miliardi per proseguire l'asset purchase program, ovvero il normalissimo acquisto di titoli di Stato. Quello che sostanzialmente sta tenendo un po' a bada i mercati, tanto è vero che la spia dello spread tutto sommato resta sotto controllo. Ovviamente se questo acquisto di titoli dovesse venire meno o dovesse rallentare per noi sarebbe un problema. Direttamente la Banca Centrale Europea, attenzione, non può mettere soldi perché da trattato TFUE e anche poi da statuto della Banca Centrale stessa che va a rispondere a quelli che sono i trattati, nessuna Banca Centrale della zona Euro può acquistare titoli di Stato. Poi qualcuno alzerà la manina e dirà no ma aspetta ma io mi ricordo che la Bundesbank qualcos'è qual è un altro discorso, i trattati sono fatti apposta per essere come dire violati da chi li può violare ma questa è un'altra storia. Rimaniamo sulla BCE quindi la BCE non può fare quello che fino all'inizio degli anni 80 per esempio faceva la Banca Centrale italiana che direttamente collegata al Tesoro italiano poteva acquistare tranquillamente i titoli come che so io oggi fa la Federal Reserve negli Stati Uniti piuttosto che la Bank of Japan piuttosto che la Bank of China insomma quelle che ce l'hanno il collegamento diretto noi non ce l'abbiamo più e la BCE cosa fa? acquista i titoli di Stato ma li acquista tramite le banche private o meglio abbiamo visto prima quello 0,60 sui triennali la banca privata che acquista i triennali cosa fa? riceve denaro dalla Banca Centrale europea a tasso 0 poi acquista 0,60 ovviamente fa un po' di bei soldini e li fa senza colpo ferire il meccanismo sembra troppo semplice per essere vero ma funziona così perché a noi ci devono raccontare tante belle storie allora punto numero uno abbiamo capito che sarebbe bello se la BCE potesse acquistare direttamente i titoli e sostanzialmente fare che cosa? neutralizzarli sostanzialmente dare soldi direttamente nelle mani dei governi che poi li dovrebbero girare all'economia reale allora questo non si può fare punto numero due il fisco la fiscalità potremmo intervenire sulle levi fiscali non sospendere le tasse diminuire la pressione fiscale magari cancellare letteralmente degli scaglioni di tasse problema anche qui dove ritrovi i soldi? ci vogliono le coperture quindi anche il punto due non mi funziona tanto punto tre questo è il metodo Draghi ora questo signore sfortunatamente italiano che dalle nostre parti è diventato santo prima del tempo ha proposto tramite il Financial Times di cancellare tutto il debito privato e di accettare l'idea che gli stati siano caricati di ulteriore debito e questo è un problemino ora sostanzialmente cosa accadrebbe ho già avuto modo di scriverlo però lo diciamo se si fa un'operazione di questo genere ora io potrei dire non me ne frega niente non ho debiti quindi non mi interessa però chi ha un mutuo chi un'azienda che ha dei debiti cioè praticamente si azzererebbe tutto l'indebitamento privato e tutto questo andrebbe a caricarsi sulle spalle degli stati ora non ci vuole un genio a capire che uno stato come il nostro andrebbe subito gambe all'aria ma anche gli altri questo è il metodo Draghi sostanzialmente arriveremo a una situazione nella quale tu che hai un debito sei al posto non ce l'hai più ti senti leggero il problema però è che quando respiri vabbè respira devi pagare anche l'aria non so se rendo l'idea a lungo andare si capirebbe la fregatura questo è San Mario Draghi quindi cancellazione debito così come non funziona potrebbe funzionare in un altro modo se utilizzassimo il metodo Mesopotamia ovvero quello che utilizzavano gli antichi re della Mesopotamia che periodicamente cancellavano tutti i debiti ripeto vicino al microfono tutti il che significa debito pubblico e debito privato faccio notare così diamo anche un'idea di quanto siamo bravi e tecnici se voi andate a leggere i report e le analisi dei più importanti centri di ricerca economica mondiali vi fanno il reportino annuale ve lo andate a vedere ce ne sono alcuni io ho anche scritto articoli quindi si possono andare a leggere ci ricordano che il debito complessivo fatto 100 il debito complessivo il 75% di questo è debito privato non dimentichiamolo mai il 25% è debito pubblico non so se rendo l'idea il problema non è il debito pubblico il problema è il debito che è tutta un'altra storia ma questo sistema si basa sul debito quindi come agire la RG in quel posto la prendiamo comunque cancellazione del debito così come viene proposta da Draghi è una fregatura quindi la scartiamo andiamo con la quarta va nuovo debito con condizionalità ecco questo è quello a cui stanno lavorando i nostri amici dell'Unione Europea in accordo col governo italiano il problema è che devono trovare il modo di rifilarci la supposta lo troveranno guardate che la supposta non la prendiamo solo noi la prenderanno anche gli altri popoli state tranquilli che presto o tardi arriva adesso passiamo a noi poi toccherà i francesi poi toccherà i tedeschi questa non è una questione di Italia contro Germania non è Italia-Germania 4-3 questa qui è una roba dove le elite finanziarie dominano l'Unione Europea a discapito dei popoli questa non è l'Unione Europea di Spinelli questa è l'Unione Europea cioè dei popoli questa è l'Unione Europea dei mercati è un'altra cosa e arriviamo finalmente al punto numero 5 quello per cui probabilmente mi sentirò dire o mi prenderò del pirla però secondo me sarebbe la soluzione ideale in questa condizione cioè noi siamo all'interno dell'Unione Europea dobbiamo rispettare quelli che sono i trattati i regolamenti i parametri dell'Unione Europea benissimo lo facciamo però risulta miliardino più miliardino meno che noi stiamo un po' sulle balle agli altri perché? perché abbiamo un risparmio privato corposo e non riescono a scalfirlo bene questo nonostante le legnate né interne né esterne se riesce quindi noi stiamo decisamente sopra i 4 mila miliardi ora facciamo cifra tonda prendiamo i 4 mila io ho fatto due conti me li sono segnati pure se avessimo 4 mila miliardi più o meno noi in questo momento sono già stati fatti ovviamente i conti da vari centri studi che dicono che vado a riprendere il dato ogni settimana per il lockdown l'Italia starebbe perdendo tra i 15 e i 30 miliardi forbice ovviamente è larga perché il conto sappiamo che include praticamente tutta l'economia italiana quindi comunque andiamo tra i 15 e i 30 miliardi considerando il lockdown fino al 3 maggio senza che ci siano ulteriori proroghe arriveremo a una cifra che si aggirerebbe minimo massimo tra i 150 e i 250 miliardi facciamo finta di essere nel worst case caso peggiore 250 miliardi io andrei a fare un'operazione per recuperare da quei 4.500 miliardi cioè un ottavo quindi non è che li voglio tutti un ottavo attenzione precisiamo non è la patrimoniale che qualche fenomeno da circo del PD ha suggerito in queste ore quindi un prelievo forzoso quello è quello che fece il buon amato quando si doveva entrare nell'euro e quindi vi devo mettere le mani in tasca questo non è un prelievo forzoso ma è un prestito forzoso torniamo al discorso dei titoli che abbiamo visto prima e anzi andiamo a riaprire il nostro browser così lo facciamo guardandolo allora prendete questa tabella prendete queste indicazioni cosa si potrebbe fare si potrebbe dire cari signori risparmiatori metteremo in piedi un sistema che automaticamente vada a calcolare con criterio progressivo quelle che saranno le cifre che saranno forzosamente attenzione prelevate come prestito allo Stato e metteremo in piedi semplicemente una asta fittizia in buona sostanza di titoli di buoni del tesoro non BTP buoni del tesoro secchi e vedete qui dove c'è scritto sono ammessi a partecipare all'asta sono ammessi a partecipare all'asta investitori e banche italiane punto fuori tutti gli altri se qualcuno avrà qualcosa da questionare a livello europeo ce la giochiamo dopo ma intanto prima facciamo questa cosa qua ci servono e la facciamo qui ovviamente cambierebbero anche le cedole io farei buoni a 5 10 20 20 e 30 anni partirei dall'1% comunque queste sono cifre indicative partirei dall'1% farei 1% 2% 3% 4% o anche diverso insomma non è un problema sostanzialmente che cosa andremo a creare una partita di giro tutta italiana questo sarebbe un prestito guardate se vogliamo fare un parallelo lo so che non è ortodosso ma per farmi capire ancora meglio a noi hanno detto che siamo in guerra giusto ce lo stanno dicendo un po' tutti i giorni ci stanno dicendo che noi siamo in guerra va bene non è vero perché questa è un'emergenza sanitaria meno male che non siamo in guerra però facciamo finta che vada bene così ricordate quei personaggi che va bene dalle nostre parti quel tizio disse l'oro alla patria va bene non voglio riprendere quello ce n'è stato un altro anche oltre l'oceano che rastrellò tutto l'oro ecco qui invece dobbiamo rastrellare un po' di risparmio ma rastrellarlo garantendo a tutti quelli che saranno coinvolti in questa operazione un guadagno perché abbiamo parlato delle cedole abbiamo detto quale sarebbe il guadagno quindi fate voi e avremmo subito non 250 miliardi del caso peggiore ma è doppio quindi avremmo anche la possibilità di avere margine di manovra e gestire una cifra ben più alta di quella che apparentemente servirebbe è chiaro che nelle clausoline che si vedono là sotto ci dovremmo anche aggiungere che nemmeno un centesimo sarà usato per ripagare il debito preesistente e su questo vorrei aggiungere una piccola cosa a me piacerebbe che una volta ma solo una volta nella vita chiunque non lo dico per conto perché non l'ha fatto nessuno chiunque ci fosse al governo andasse una volta a spiegare questa cosa del debito ai nostri amici olandesi austriaci che poi parliamoci chiaro sono la maschera della Germania ma va bene stessa cari signori intanto potremmo dire con questa operazione voi avete ragione non dovrete garantire il debito italiano perché questa operazione sarà nostra è una partita di giro nostra non c'è problema quindi direi vi abbiamo accontentati anche perché hanno ragione trattati alla mano hanno ragione gli olandesi inutile che facciamo i fenomeni che ci incazziamo cioè girano un po' le balle perché le nostre aziende vanno là perché questi non fanno pagare un cacchio di tasse però quello va bene quello va bene sai com'è farei notare questo discorso del debito privato perché se è vero che l'Italia ha un rapporto debito pubblico PIL al 134% è altrettanto vero che l'Olanda è al 242% di rapporto debito privato PIL guardate che non è uno scherzo lo Stato olandese sarà anche sano con i suoi conti ma è la popolazione che per usare un termine tecnico è la cacca non so se è chiaro il concetto ogni tanto queste cose le dovremmo far notare come dovremmo far notare agli amici tedeschi non al popolo al governo tedesco che abbiamo capito che a loro piace truccare truccare i motori truccare i dati bancari andate a chiedere agli Stati Uniti quante molte danno ogni mese a Deutsche Bank per infrazioni sul mercato borsistico andate a chiedere in Svezia andate a chiedere in Danimarca andate a chiedere in altri paesi anche in Lettonia e in altri dell'est quante banche collegate a Deutsche Bank riciclano soldi sporchi andate a fare una ricerchina sulle condanne che sono state inflitte ai manager di Deutsche Bank in Italia a Milano e ragazzi sono un po' abituati a truccare solo che diversamente da noi non lo dicono solo quando li becchi ti dicono porca miseria mai preso hai ragione ho fatto facciamole notare perché la Germania è quel paese che ufficialmente ha un rapporto debito pubblico PIL di poco superiore al 60% però non perché lo dico io ci ho fatto articoli perché lo dicono i loro economisti loro fanno i furbi utilizzando le loro belle banchette pubbliche come per esempio KFV che è quella che stanno utilizzando per dare soldi immediatamente alle aziende cosa fanno? siccome loro sono uno stato uno stato ci sono i lender hanno un po' di giochini che hanno messo dentro i trattati per poterli bypassare sostanzialmente la situazione reale della Germania oggi rapporto debito pubblico PIL non sarebbe intorno al 60% sarebbe nettamente superiore al 100% queste cose qui le dovremmo far notare purtroppo non è solo il buon Giuseppe ma sono anche altri che non le hanno fatte notare io adesso mi fermo qua perché altrimenti qua diventa intervento fiume ci sarebbe una seconda parte per capirci abbiamo detto del fatto che l'Italia non ha ancora messo un centesimo e questo è grave è vero che non hanno firmato niente non si sono impegnati per niente ESM o altre cose condizionalità per ora niente su questo ragione conto il problema mio però è quello del fatto che non hai messo neanche un centesimo nella seconda parte o comunque nel prossimo video andremo a vedere cosa hanno fatto gli altri allora io mi sono segnato 10 paesi che sto seguendo devo dire per la verità che ne sto seguendo più da vicino 5 probabilmente mi mi soffermerò su questi così la facciamo meglio anticipo che dovremmo parlare di Svizzera Svezia Stati Uniti Gran Bretagna e Germania così facciamo un bel quadro su chi è dentro l'Unione Europea chi è fuori nonostante sia in Europa chi è oltre l'oceano un quadro che secondo me sarà abbastanza chiaro e lì capiremo che se da un lato è vero che questi paesi sono già intervenuti però non è che sia tutto rose e fiori anche lì lo dobbiamo spiegare resta il dato di fondo del nostro governo che ad oggi ha messo zero e per rispondere alla domanda iniziale allora insomma questi conti e gualtieri sono eroi o traditori nessuno dei due come diceva il buon De Niro sono chiacchiere distintivo nient'altro che chiacchiere e distintivo loro e anche quegli altri che li attaccano non dimenticatelo questo a prossima a prossima